Cari amici, eccoci di nuovo qui insieme, anche perché nello scorso video non sono riuscito ovviamente per ragioni di tempo a spiegare tutte le proposte, le iniziative che abbiamo formulato in questi primi due anni di amministrazione. In questo breve video sarò ancora più sintetico rispetto al precedente, voglio analizzare due questioni. La prima è relativa al cimitero del comune di Grottolella, perché da mesi l'amministrazione comunale ha intenzione di privatizzare i servizi cimiteriali, sono già 7-8 mesi, che ne stiamo parlando già in consiglio comunale, su questa questione devo essere sincero c'è stato un dibattito, una quantomeno discussione tra maggioranza e minoranza. Ora ci siamo, a breve ci sarà l'aggiudicazione del contratto di appalto relativo alla gestione di tutti i servizi cimiteriali. Su questa questione noi già prima che l'amministrazione portasse in consiglio comunale questa sua proposta proponemmo, quasi due anni fa, all'epoca c'era ancora Luciano Conte in consiglio comunale con noi se non sbaglio, proponemmo al fine di migliorare i servizi cimiteriali e proponemmo di affiancare all'unico dipendente comunale che svolge in maniera efficace e efficiente il suo lavoro e quindi proponemmo di affiancare a lui o dei giovani, sempre i giovani che fanno i servizi civili a Grottolella, oppure ecco le persone che sempre quasi due anni fa hanno partecipato, quindi si sono iscritti nella short list per quanto riguarda le prestazioni di lavoro accessorio, ci sono ben 50 persone se non sbaglio che si sono iscritte e quindi eventualmente retribuendo queste persone con i cosiddetti buoni lavori, quindi con i cosiddetti voucher. Oppure ecco la terza ipotesi era quella di organizzare dei gruppi di cittadini che a titolo di volontariato, quindi ad essere una mano all'unico dipendente del comune di Grottolella che svolge le mansioni, quindi svolge il lavoro all'interno del cimitero comunale. Nessuna di queste tre proposte fu presa in considerazione, il comune ora ha avviato questa pratica di privatizzazione dei servizi cimiteriali. In realtà noi abbiamo qualche dubbio sulla cosa, perché come ha detto bene nei mesi passati in consiglio comunale mio collega Vincenzo Spagnoli il problema è prevedere ex ante in realtà il rapporto tra costi e benefici rispetto alla privatizzazione del servizio. Noi adesso non vogliamo che poi alla luce di questa privatizzazione i costi per il cittadino poi nel tempo aumentassero. Quindi la nostra preoccupazione è questa, perché laddove in quelle realtà più grandi delle nostre, dove i comuni hanno proceduto a privatizzare i servizi relativi al cimitero, i costi per i cittadini sono leggermente lievitati, anzi in alcune realtà raddoppiate, perché poi giustamente l'impresa che si aggiudica la gara d'appalto fa profitto. L'impresa per definizione massimizza il profitto, quindi ovviamente non può puntare a parecchio di bilancio, ma deve massimizzare il profitto. L'impresa si fa così. Quindi noi abbiamo espresso questa perplessità. Tra due anni che scadrà il contratto d'appalto, perché nel contratto d'appalto è previsto una durata biennale, vedremo se effettivamente ci sarà stato un miglioramento del servizio, ma a parità di costo. Vedremo se l'amministrazione ci avrà visto giusto o meno. Noi ci auguriamo che le cose vanno nel miglior modo possibile. Altra questione su cui ci tengo, ma brevemente a dire qualcosa, anche perché ne abbiamo parlato molto sui giornali, in tv, in Consiglio Comunale, riguarda le opere pubbliche. Noi più volte abbiamo detto che saremo i primi a desultare, a festeggiare nel momento in cui tutte le opere pubbliche in corso, dal palazzetto, al campo da calcio, mio Umberto I, Pozzo del Sai, la biblioteca stessa. Quindi quando queste opere saranno completate saremo i primi a festeggiare e ad essere contenti. Noi abbiamo detto più volte che vogliamo che il nostro Paese possa progredire, possa crescere. La crescita del nostro Paese, a nostro avviso, passa necessariamente attraverso il completamento delle opere pubbliche in corso. Ovviamente occorre anche dire che tutte le opere pubbliche in corso sono state finanziate con progetti presentati dalla scorsa amministrazione, amministrazione guidata da Torino Spiniello, dove alcuni progetti, ad esempio come quello sulla biblioteca, fu seguito direttamente dall'ex assessore Peppino Maiacane, oppure il progetto relativo alle fogne bianche a Pozzo del Sale, fu seguito molto da vicino questo progetto dall'assessore Liborio Liborio Maio. Quindi queste cose dobbiamo dirle e raccontarle ecco ai cittadini. Lo stesso palazzetto, lo stesso campo sportivo, insomma due vicende che sono state seguite da vicino dall'ex sindaco Donino Spiniello, ricordo quando nel settembre del 2009 in un convegno a Montefredame l'ex sindaco Donino Spiniello, io ero presente, ecco si intrattenne a parlare con Antonio Bassolino, l'ex presidente della regione Campania, ecco sulla vicenda relativa al campo sportivo e quindi sollecitò il presidente della giunta regionale di allora rispetto a questa vicenda. Quindi dal 2009 al 2014 si è lavorato, si è progettato e si è cercato appunto di lavorare per consentire ecco al paese di poter progredire e di poter crescere. Quindi ecco le opere pubbliche sono in corso, i progetti sono progetti presentati dall'amministrazione precedente, saremo felicissimi nel momento in cui le opere pubbliche ecco saranno inaugurate e date ecco alla libera fruizione quindi dei cittadini. Ripeto, su questa vicenda dell'opere pubbliche abbiamo parlato più di una volta anche in Consiglio Comunale, più di una volta abbiamo offerto il nostro punto di vista, le nostre idee all'attuale amministrazione. Quindi anche sulle opere pubbliche, anche sui servizi cimiteriali, il gruppo di opposizione ha espresso quindi il proprio punto di vista e quella propria opinione. Quindi noi cerchiamo di, come si dice, di stare sul pezzo, di essere molto, come ho detto già nello scorso video, molto propositivi e cercando appunto di far sì che la stessa maggioranza possa recepire qualche nostra proposta, qualche nostra iniziativa perché ogni proposta, ogni iniziativa viene fatta appunto per, viene fatta perché è finalizzata a rendere quindi ecco un servizio utile alla nostra comunità. Grazie.